Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi su Instagram e vi ricordo che sono attiva anche su Facebook. Vi lascio il link nell'info box e vi dico che lì su Facebook carico qualche video inedito di casi italiani, quindi se avete voglia di ascoltare casi italiani, vedete a fare un salto. Detto questo, diamoci dentro col video. La famiglia può essere sia un rifugio sicuro che causa di indicibili tragedie. Quando i legami di sangue, invece di fornire protezione, causano sofferenza, emergono storie che ci lasciano senza parole. Questo è il caso di Sarah Barras, una vicenda che ci porta a riflettere sulla natura del male e sulla vulnerabilità di chi è troppo piccolo per difendersi da solo. Sarah Barras nasce nel 1984 a Sheffield, nel Regno Unito. Cresce in una famiglia numerosa, sono cinque tra fratellastri e sorellastre, ognuno dei quali ha un padre diverso. La sua infanzia è segnata da una costante instabilità domestica, aggravata dai frequenti cambi di fidanzato di sua madre. Nessuno dei padri è presente nella vita dei propri figli. Sarah cresce insieme ai suoi fratellastri in una casa senza regole. Non ci sono orari predeterminati per andare a dormire e non esiste un'ora prestabilita per i pasti. I bambini possono quindi andare a letto quando desiderano e prendono il cibo dalla dispensa quando ne hanno voglia. Inoltre non vengono obbligati a frequentare la scuola. Ecco cosa intendo quando dico che non ci sono regole e che possono fare quello che gli pare. Chiaramente questo non è il modo migliore di crescere dei bambini, ma anche l'ambiente in cui crescono è tutt'altro che ideale. Molte persone losche entrano ed escono da quella casa e i bambini sono circondati fin dalla nascita da adulti che consumano abbondantemente alcol e sostanze e che hanno comportamenti inappropriati. La madre è chiaramente negligente, ma non è finita qui, perché questi bambini subiscono anche diversi abusi intimi. Sarah in particolare subisce questi abusi fin dalla tenere età, da una serie di persone diverse. Non conosco le loro identità, né cosa abbiano fatto nel dettaglio su questa parte della storia, quindi non posso fornirvi maggiori informazioni. I servizi sociali vengono a conoscenza di questa situazione e a un certo punto Sarah e i suoi fratellastri vengono portati via da quella casa. Nel corso degli anni successivi vengono affidati a diverse case famiglie. All'età di 9 anni Sarah torna a vivere con sua madre e sviluppa un forte legame con il suo fratellastro maggiore, Brandon Moshin. Brandon ha 4 anni più di Sarah e anche lui ha passato gli ultimi anni tra una casa famiglia e l'altra, fino a quando entrambi si sono ritrovati a vivere con la madre. Fin da piccolo il ragazzino è un piantagrane e viene descritto come prepotente e incredibilmente aggressivo. Mostra comportamenti violenti sia in famiglia che all'esterno, aggredendo senza motivo i suoi fratelli, i bambini del vicinato e i suoi compagni di classe. Anche a scuola non è insolito vederlo iniziare a prendere a pugni e calci gli altri bambini. Sarah, al contrario, è l'esatto opposto, una bambina timida, tranquilla e riservata. Si dimostra anche molto premurosa nei confronti degli altri fratellastri. Tuttavia, quando i due tornano a vivere insieme, Sarah inizia ad ammirare Brandon e questo la trasforma radicalmente. Col tempo anche lei inizia a covare rabbia, odio e aggressività, imitando il comportamento del fratellastro. Comincia a litigare con i compagni di scuola e prova particolare piacere nell'osservare Brandon picchiare gli altri ragazzini. I due non si limitano a mostrarsi violenti e prepotenti con gli altri bambini, ma lo fanno anche con i loro fratellastri. In un'occasione, Brandon afferra suo fratello Martin per la caviglia, lo tiene sottosopra e gli sbatte la testa ripetutamente sul pavimento, mentre Sarah si gode la scena e ridacchia. Successivamente, Sarah inizia a imitare il comportamento del suo fratellastro, in un'occasione spinge la sua sorella astra giù da un albero, causandole molto dolore. Sarah adora Brandon e il loro passatempo diventa infliggere dolore e fare i prepotenti con gli altri. Entrambi sviluppano ben presto un'ossessione per i film horror. Ovviamente non c'è nulla di male nell'appassionarsi a questo genere di film, ma Sarah è molto giovane e si fissano su questa tipologia di film per le ragioni sbagliate. Guardano ripetutamente Nightmare on Elm Street, Freddy Krueger è il loro idolo e amano qualsiasi cosa che coinvolga sangue e viscere. Purtroppo, questa ossessione per il sangue e le viscere si trasforma in un passatempo molto inquietante, fare del male ad animali innocenti. Quando trovano dei nidi di uccelli nel loro quartiere, uccidono i piccoli lanciando delle pietre. E la cosa peggiore è che si divertono molto. In seguito, Brandon e Sarah decidono di uccidere anche i tupini domestici della famiglia. Così un giorno i due aprono la gabbia, lasciano che i tupini corrano sul pavimento per poi iniziare a calpestarli a morte. Gli altri bambini presenti in casa rimangono a guardare inorriditi definendoli psicopatici. Negli anni successivi la situazione in casa non migliora affatto, i bambini continuano a essere trascurati e abusivi. Di conseguenza, i servizi sociali intervengono nuovamente, portandoli via e collocandoli di nuovo presso delle case famiglia. All'età di 14 anni, Sarah torna a casa per l'ultima volta e trova il coraggio di andare dalla polizia per denunciare tutti gli abusi intimi che ha subito da diverse persone. Fortunatamente la polizia prende queste accuse seriamente e, dopo un'indagine, una persona viene accusata, arrestata e giudicata colpevole di abusi intimi. Non sono noti i dettagli di ciò che Sarah ha vissuto, ma il fatto che una persona sia stata condannata può darvi un'idea della gravità di ciò che ha subito. Sarah non ha mai avuto modo di vedere come funzionano le relazioni sane, nemmeno quelle intime. In questo periodo, la ragazza si avvicina sempre di più a Brandon e i due iniziano a scambiarsi delle lettere d'amore. Chiaramente questa situazione va ben oltre il rapporto normale che un fratello e una sorella dovrebbero avere, perché in queste lettere si dicono a vicenda che si amano. L'incesto nel Regno Unito è illegale, ma soprattutto vi ricordo che Sarah ha solo 14 anni, mentre Brandon ne ha 18. Anche questo contribuisce a rendere il loro rapporto illegale, perché secondo la legge inglese l'età del consenso parte dai 16 anni. La madre scopre la relazione e le lettere d'amore che Brandon e Sarah si scambiano. A questo punto, fortunatamente aggiungerei, si preoccupa molto e informa i servizi sociali dicendo che due dei suoi figli sono innamorati l'uno dell'altro e che stanno intrattenendo una relazione inappropriata. I servizi sociali però non intervengono, sembra che a nessuno importi nulla. Nessun assistente sociale si preoccupa di effettuare una verifica presso la loro abitazione per controllare la situazione. Passano un paio d'anni, Sarah raggiunge l'età del consenso e la sua relazione con Brandon diventa anche intima. Pare però che i due ragazzi non abbiano idea di che cosa voglia dire usare le protezioni, perché Sarah, all'età di 19 anni, rimane incinta. La coppia ormai è inseparabile, sembrano quasi due anime gemelle, se solo non fossero imparentati tra loro. Sarah non solo è la madre del bambino che è in grembo, ma risulta anche essere la zia, così come Brandon, e sia il padre che lo zio. La ragazza dà la luce un bambino che verrà chiamato Blake e decide che nessuno, e dico nessuno, dovrà venire a conoscenza dell'identità del padre. È chiaramente imbarazzata e ovviamente non vuole far sapere che il padre del suo bambino è il suo fratellastro. Mentre era in ospedale per partorire, le è stato chiesto dove fosse il padre, e lei aveva affermato che lui non desiderava essere coinvolto nella vita del bambino, quindi sarebbe stata una madre single. A questo punto anche Brandon concorda con Sarah, nessuno deve conoscere l'identità del padre di Blake. Così il bambino cresce, senza avere la minima idea di chi sia suo padre. Sarah vive da sola con Blake, mentre Brandon, per non destare sospetti, risiede in un alloggio situato in fondo alla via, non lontano quindi dalla casa di Sarah. Brandon ovviamente finge di essere semplicemente uno zio premuroso e va a casa di Sarah ogni giorno per aiutarla a crescere Blake. Alcuni membri della famiglia nutrono dei sospetti sulla relazione tra Sarah e Brandon a causa della loro storia passata, ma nessuno osa parlarne. I due continuano a portare avanti la loro relazione in segreto. Le persone pensano che siano semplicemente un fratello e una sorella molto legati, ma qualche mese dopo la nascita di Blake, Sarah rimane di nuovo incinta. Sarah dà la luce un altro maschietto, Tristan, e la storia si ripete. Quando in ospedale le chiedono chi sia il padre del bambino, Sarah afferma che il padre non vuole essere coinvolto. La coppia ora ha due figli, Blake e Tristan. Si potrebbe pensare che abbiano imparato la lezione e che, se continueranno ad avere rapporti, inizieranno a usare le protezioni. Tuttavia, questo non accade perché, nei due anni successivi, Sarah resta incinta altre due volte e dà la luce altri due bambini. I nomi di questi due bambini non sono noti, le loro identità sono protette. Sarah, quindi, ha dato alla luce quattro figli in quattro anni. Ogni volta che va in ospedale per partorire, Sarah dice sempre la stessa cosa. Tutti i bambini hanno lo stesso padre, che però non è interessato a prendersi cura di loro. A mio avviso, a questo punto, l'ospedale avrebbe dovuto rendersi conto che c'è qualcosa che proprio non va. Questa donna è andata lì quattro volte in quattro anni, affermando che questi bambini non hanno un padre disposto a prendersi cura di loro. I servizi sociali avrebbero dovuto indagare e occuparsi della situazione per assicurarsi che tutto andasse bene. Ma sembra che nessuno si ponga delle domande. Quando Sarah compila il documento sulla nascita dei bambini, conferma sempre che il padre non è un consanguineo. Negli anni successivi, Sarah e Brandon vivono una vita segreta. Hanno dei rapporti intimi, ma lei vive in una casa da sola con i suoi quattro figli e finge di essere una mamma single, mentre Brandon continua a vivere nella casa in fondo alla stessa via e ogni giorno va a casa di Sarah per darle una mano a crescere i loro quattro figli. Il tempo passa, i bambini crescono e naturalmente iniziano a fare delle domande sul loro papà. Chiedono a Sarah chi sia il loro padre, quale sia il suo nome, quanti anni abbia. I piccoli, come è ovvio che sia, vogliono anche sapere perché il padre non è nella loro vita. Così Sarah decide di dire ai bambini diverse bugie. Ad esempio, gli racconta che il loro padre è un eroe di guerra, morto durante la Seconda Guerra Mondiale. Una cosa ovviamente impossibile, dato che la guerra è finita 60 anni prima che i bambini nascessero. Ma per ora, essendo piccoli, non mettono in discussione i racconti della madre. Sono quindi convinti che il loro padre sia morto e che l'uomo che va a casa loro ogni giorno, Brandon, sia solo uno zio. Nel corso degli anni, quando i bambini crescono, Brandon e Sarah si rendono conto che i bambini hanno significative disabilità dello sviluppo. A Blake, il figlio maggiore, viene diagnosticato l'autismo e la DHD. Ha anche grandi difficoltà a comunicare e a parlare, così viene indirizzato da uno specialista del linguaggio. A secondo genito Tristan viene diagnosticato un disturbo da deficit dell'attenzione. Anche lui ha grossi problemi a parlare e a comunicare e soffre di gravi allergie. Viene portato anche lui da uno specialista. Anche se non è noto di cosa soffrissero esattamente i due bambini più piccoli, anche essi hanno problemi di linguaggio e a scuola gli viene assegnato un professore di sostegno. Si presume che questi bambini abbiano queste disabilità dello sviluppo perché è nati da un incesto. I bambini nati da un incesto, infatti, hanno una probabilità molto più alta di nascere con qualche tipo di disabilità. I bambini continuano a vivere in questa strana e ingarbugliata situazione familiare. Ogni mattina alle 7 Brandon si presenta a casa loro e passa il resto della giornata lì. Né Sarah né Brandon hanno un lavoro. Ma è lui che svolge la maggior parte dei lavori in casa. Cucina, pulisce, controlla i bambini. È lui che gli cambia i pannolini il più delle volte, che si preoccupa di farli mangiare e che si assicura che vadano tutti a scuola. È sempre lui a fare la spesa. Brandon in pratica si occupa di tutto e deve anche servire a riverire Sarah. Questo è strano perché durante il periodo della crescita era Brandon il dominante tra i due. Ma ora che entrambi sono adulti, sembra che i loro ruoli si siano invertiti. Ora è Sarah a comandare a bacchetta Brandon. La donna trascorre la maggior parte del tempo seduta sul divano e Brandon è pronto a portarle qualsiasi cosa chieda, come ad esempio cibo o bevande. Le fa perfino dei massaggi ai piedi e si occupa del bucato. Sarah, in pratica, non muove un dito in casa. Brandon è presente anche quando Sarah ha incontri con gli assistenti sociali riguardo i bisogni speciali dei suoi figli, ma loro continuano a non fare domande. Non chiedono dove sia il padre biologico dei bambini, né perché lo zio sia così presente. La famiglia di Brandon e Sarah, così come i suoi amici, trovano l'intera situazione strana e non capiscono perché Brandon si è disposto a fare tutto per Sarah. In un'occasione Brandon inizia a chattare con una donna su Facebook quando Sarah lo scopre e perde la testa poiché vuole che il suo fratellastro stia solo con lei. Anche i bambini subiscono questa strana situazione familiare e non se la passano bene. I due figli maggiori, Blake e Tristan, sono vittime di bullismo a scuola. Non hanno amici, non riescono a integrarsi con gli altri bambini e ci sono forti sospetti che Brandon stia abusivamente di loro. Quando uno dei bambini ha circa tre anni, Martin, uno zio, vede che il suo fratellastro Brandon lo sta maltrattando, trascinandolo violentemente a terra sul cemento. Martin si preoccupa molto nel vedere questo tipo di comportamento e decide di denunciarlo per maltrattamenti. Ma la denuncia di Martin cade nel vuoto. Anche in questo caso, nessuno fa nulla. Passano un paio d'anni. Sarah ora ha 30 anni, mentre Brandon ne ha 34 e la loro relazione segreta va avanti da ormai 20 anni. I due figli maggiori, Blake e Tristan, si stanno avvicinando al periodo dell'adolescenza. Ed è a questo punto che Sarah e Brandon prendono una decisione alquanto sconsiderata. Vogliono avere altri figli. Se quando erano più giovani non si rendevano conto di star commettendo degli sbagli, ora dovrebbero essere abbastanza maturi da rendersi conto che non è una buona idea mettere al mondo altri bambini. Tutti i figli che hanno avuto presentano problemi dello sviluppo, quindi perché continuare? Nonostante ciò, Sarah dà la luce altri due maschietti. A questo punto Sarah vuole una femmina perché ha sei figli, ma sono tutti maschi. Così provano a concepire il settimo figlio nella speranza che nasca una bambina. Sarah scarica addirittura un'applicazione sul suo cellulare che, a quanto pare, serve a capire come concepire un bambino del s***o che si preferisce. Al di là del fatto che dubito che un'applicazione del genere possa funzionare, grazie a Dio Sarah non rimarrà incinta del settimo figlio. A questo punto la famiglia e gli amici iniziano seriamente a porre a Sarah delle domande e l'argomento è sempre lo stesso, l'identità del padre di questi bambini. Sarah risponde sempre che tutti i bambini hanno lo stesso padre, un uomo con cui si tiene in contatto e che di tanto in tanto vede solo per avere dei rapporti e rimanere incinta, ma che non vuole alcuna responsabilità. La donna afferma di essere soddisfatta della scelta del padre dei suoi figli perché non ha mai voluto un compagno. La domanda che mi sorge spontanea è perché nessuno faccia 2 più 2 visto che Sarah e Brandon avevano tenuto un comportamento inappropriato quando erano adolescenti. Credo che nessuno abbia messo in discussione le parole di Sarah perché sembrava essere una brava madre, premurosa, attenta e amorevole. Osservando il suo comportamento non si può far altro che credere che stia facendo un ottimo lavoro dato che in pratica sta levando i suoi 6 figli da sola. Rispetta ogni appuntamento dei bambini ed è sempre presente. Gli assistenti sociali vanno spesso a casa sua per controllare che non ci siano problemi e nessuno ha mai sollevato alcuna preoccupazione. I bambini ora hanno 14, 13, 12 e 11 anni mentre gli ultimi nati hanno rispettivamente 3 anni e 7 mesi. Blake e Tristan, i maggiori, a questo punto frequentano la scuola superiore Firth Park Academy a Sheffield. Blake coltiva una grande passione per il football, è gentile e molto simpatico. Tristan è un po' dispettoso ma altrettanto adorabile. È molto coraggioso e ama esprimere la sua personalità attraverso l'abbigliamento e lo stile. Adora tingersi i capelli con colori sgaggianti, blu, giallo, verde. Talvolta però finisce nei guai a scuola proprio per questo motivo. Nel 2017 Tristan appare anche in tv sulla BBC in un programma che segue il passaggio dei bambini della scuola media alla scuola superiore. In questo programma Tristan afferma che a uno dei suoi più cari amici è stato diagnosticato un cancro alle ossa. Il ragazzino si tinge i capelli di giallo a sostegno del suo amico dato che è il suo colore preferito. Tristan cerca anche di raccogliere del denaro da dare in beneficenza per sostenere la ricerca contro il cancro. Questo dimostra quanto sia un bambino veramente dolce e adorabile che si preoccupa davvero per i suoi amici. Tuttavia nel 2018 diventa chiaro che sia Blake che Tristan iniziano ad avere problemi comportamentali. Per i seguenti 18 mesi i due fratelli si ritrovano costantemente nei guai e i servizi sociali visitano la loro casa per un totale di 13 volte scoprendo che i problemi non mancano. Blake e Tristan sono ossessionati dai siti hot presenti online a cui accedono tutti i giorni e addirittura più volte al giorno. Se hanno 5 minuti di tempo libero navigano su quei siti indipendentemente da dove si trovino. Guardano quei siti a scuola, a casa e persino quando sono con gli amici. Sarah cerca di mettere fine a questa situazione vietando l'uso di internet ai due ragazzini e requisendo loro i cellulari e gli altri dispositivi elettronici. Anche la scuola gli vieta l'accesso a internet e i servizi sociali chiedono a Sarah di non permettere loro di tenere chiusa la porta della camera da letto. In questo modo Sarah può tenerli d'occhio costantemente. Emerge anche che Blake talvolta ha delle conversazioni alquanto spinte con degli sconosciuti su internet. Uno di questi uomini si spinge oltre e chiede a Blake di inviargli una foto delle sue parti intime. Questo è veramente preoccupante e la colpa in questo caso non è di Blake visto che è solo un ragazzino ma il fatto che acceda delle chat del genere che parli con questo tipo di persone è comunque un grosso problema. Quando Sarah lo scopre si infuria ma purtroppo la situazione non fa che peggiorare. I due ragazzi iniziano ad assumere comportamenti violenti e aggressivi. Continuano ad essere vittime di bullismo e il loro modo per affrontare la situazione è scatenare delle risse. Se ricordate Sarah e Brandon quando erano ragazzini si comportavano in modo molto simile. Esattamente come i loro genitori anche Blake e Tristan sviluppano un'ossessione per i film horror molto violenti. Ma il loro interesse non si limita ai film horror. In realtà amano guardare video i cui argomenti centrali sono la violenza e le armi da fuoco. Blake e Tristan inoltre diventano aggressivi nei confronti dei loro fratelli proprio come facevano i loro genitori. In un'occasione Blake decide di rubare l'auto di sua zia per fare un giro. Ovviamente dicendo zia non mi sto riferendo a Sarah che è sia loro madre che loro zia ma alla sorellastra di Sarah. Tristan inoltre inizia a portare con sé a scuola un coltello. Il timore non è tanto che con quell'arma faccia del male a qualche allievo ma che possa farlo a se stesso. Infatti in questo periodo il ragazzino sviluppa anche dei pensieri suicidi. In un'occasione dice a sua madre Sarah delle parole terribili. Dice di voler prendere un coltello e conficcarglielo nel cuore. Sarah chiaramente è molto preoccupata riferisce l'accaduto agli assistenti sociali. Tristan viene quindi sottoposto a una valutazione urgente della salute mentale. Dopodiché viene messo in atto un piano di assistenza per aiutarlo. Ma le cose non si fermano qui perché il comportamento altamente sessato dei due ragazzi continua a peggiorare. Blake e Tristan iniziano ad avere delle fantasie piccanti sui propri fratelli. Non posso fare a meno di chiedermi da chi abbiano imparato questo tipo di comportamento e per me la risposta è palese dai loro genitori. In un'occasione Blake viene sorpreso a spiare uno dei suoi fratelli minori sotto la doccia e sia lui che Tristan intraprendono discussioni alquanto spinte con i fratellini. Tristan chiede ripetutamente ai suoi fratellini più piccoli di sedersi sulle sue ginocchia e Sarah ha paura che dietro a questa richiesta ci possa essere della malizia. Come se non bastasse Tristan mostra un comportamento inappropriato anche nei confronti dei suoi compagni di scuola. Un'altra volta Tristan si trova con un altro studente della sua stessa scuola in una camera da letto e lo tocchi in modo inappropriato da sopra i vestiti. In un'altra occasione Blake chiede a uno dei suoi fratelli più piccoli di strizzargli i genitali. È chiaro che entrambi i ragazzini stanno mostrando dei comportamenti preoccupanti per la maggior parte di natura morbosa. Tutti gli eventi che vi ho raccontato sono stati segnalati dalla madre dei ragazzi. Sarah è molto onesta e disponibile non cerca di nascondere nulla. Ogni volta che succede qualcosa la donna si preoccupa e lo segnala ai servizi sociali che le consigliano di non lasciare mai i due ragazzi più grandi da soli con i più piccoli. Sarah in passato ha indubbiamente commesso degli errori ma ora sta facendo le scelte giuste sta cercando di chiedere aiuto permette ai servizi sociali di entrare in casa non manca mai a nessun appuntamento. Ma i comportamenti di Blake e Christian sono sempre più fuori dal suo controllo e sempre più allarmanti e nessuno la sta aiutando in modo concreto. Vi ricordo che Sarah durante l'infanzia ha subito degli aborti intimi e ora è angosciata e teme di aver allevato dei piccoli mostri che una volta cresciuti diventeranno dei predatori. Desidera evitare che ciò accada e ha paura che se non risolverà il problema la situazione peggiorerà. Ecco perché è così onesta e aperta al dialogo con i servizi sociali. In un'altra occasione Sarah comunica agli assistenti sociali di voler coinvolgere la polizia affinché Blake e Tristan vengano arrestati. In effetti c'è un altro grande cruccio che perseguita la donna non vuole che le portino via Blake e Tristan per affidarli a qualche casa famiglia. Sarah è terrorizzata da queste eventualità lei stessa da bambina ha passato molto tempo in affidamento e ha subito dei maltrattamenti. Per questo motivo quando parla con gli assistenti sociali si contraddice spesso. Dice cose come i miei ragazzi stanno diventando dei mostri ho bisogno del vostro aiuto ma poi aggiunge anche per favore, per favore non portatemeli via non dateli in affidamento. Ogni singola volta i servizi sociali le assicurano che non succederà ma Sarah è paranoica e non crede alle loro parole. In pochi mesi la paranoia della donna aumenta sempre di più ora teme che non solo le vengano tolti i figli più grandi ma anche gli altri. Arriviamo al maggio del 2019 Tristan viene accusato di aggressione intima da un genitore di un bambino che frequenta le elementari. L'esatta natura di questa aggressione non è nota perché non è stata resa pubblica ma vengono coinvolti le autorità si presume quindi che si tratti di una questione molto seria. I servizi sociali di conseguenza incontrano Sarah e le chiedono qualcosa che l'accoglie completamente alla sprovvista vogliono sapere chi è il padre biologico di Tristan e Blake. Sarah ha mantenuto questo segreto proprio con tutti quindi è vero è sempre stata molto onesta con i servizi sociali ma non ha mai detto la verità riguardo al padre biologico dei suoi figli. Di conseguenza nessuno sa che in realtà il padre di Tristan Blake e di tutti gli altri bambini è il suo fratellastro Brandon. Anche adesso non ha alcuna intenzione di dire la verità perché è certa che le porterebbero via tutti i suoi figli ma gli assistenti sociali sono irremovibili vogliono sapere chi sia il padre biologico di questi due ragazzini questo perché c'erano stati troppi problemi con Blake e Tristan per la maggior parte di natura sexuale. A questo punto gli assistenti sociali sono molto preoccupati perché Tristan e Blake hanno 13 e 14 anni quindi sono molto molto giovani e temono che i due ragazzini possano aver subito degli aborti intimi da parte del loro stesso padre. Credo sia un timore lecito sono molto piccoli quindi dove hanno imparato a comportarsi così? A cosa sono stati esposti? Fare delle domande sui loro genitori è la prassi ma quando Sara sente questa domanda si blocca completamente e si rifiuta di dire ai servizi sociali la verità. Questo li rende sospettosi così le dicono che l'avrebbero ricontattata presto. Dopo questo incontro Tristan passa allo stato di bambino sotto protezione. Viene monitorato perché si sospetta che abbia aggredito un altro bambino e per questo motivo Sara è assalita dal panico. Manda quindi un messaggio al padre dei suoi figli ovvero al suo fratellastro scrivendogli che i servizi sociali scopriranno il loro segreto quindi dovranno fare qualcosa a riguardo. Poi la donna inizia a pubblicare dei post molto preoccupanti su Facebook. Il primo è una citazione di Stephen King L'omicidio è come le patatine non puoi fermarti dopo averne commesso solo uno. In un altro post Sara scrive Non sono cattiva o fredda sono solo stanca di essere presa in giro. In un terzo post la donna condivide un'immagine del tristo mietitore che tiene in mano una falce insanguinata. Nella didascalia si legge Sto arrivando per te. Voglio sottolineare che Sara ama i film e i libri horror quindi potrebbero essere dei semplici post di una persona che esprime il proprio interesse per quel genere. È comunque indubbiamente sospetto il tempismo con cui sono stati pubblicati. Sara inizia anche a inviare preoccupanti messaggi di testo in uno di questi indirizzato a un'amica scrive Mi sento come se avessi fallito con Blake dovrei far rinchiudere me e tutti i miei cari così non potranno ferire nessun altro. Scrive anche Amo troppo i miei figli per ucciderli non posso mandarli in affido per le stesse ragioni ma non è finita qui in un altro messaggio scrive Ho pensato ad ogni possibile soluzione per questo pasticcio potrei metterli in affidamento o metterli tutti in manicomio o ancora fare un omicidio di massa. Mi chiedo se la persona a cui ha mandato questi messaggi si sia preoccupata. Sara manda anche dei messaggi a Brandon il padre dei suoi figli e scrive Devono morire adesso preferirei ucciderli e uccidermi piuttosto che perderli ho dato loro la vita e ora posso portargli la via. Il 23 maggio 2019 Sara manda un altro messaggio a Brandon dicendogli devono morire ora devono morire oggi. Poco dopo aver inviato questo messaggio Brandon e Sara si incontrano e decidono che avrebbero fatto qualsiasi cosa per tenere nascosto il loro piccolo sporco segreto al mondo decidono così di uccidere i loro figli tutti e sei onestamente sono perplessa non capisco come l'omicidio dei loro figli possa tenere nascosti i loro segreti i servizi sociali si sono già attivati pensano davvero che se tutti i loro sei figli morissero la polizia e gli stessi servizi sociali non indagherebbero sulla situazione decidono di mettere in atto il loro piano avvelenandoli a cinque dei loro figli è stato diagnosticato la dhd Sara quindi decide di andare alla farmacia locale per acquistare i loro farmaci quella stessa sera la donna inizia a inviare dei messaggi a un'amica di famiglia dicendo che i suoi figli sono malati e non sarebbero potuti andare a scuola al giorno dopo più tardi poco prima di andare a dormire Sara e Brandon mettono insieme tutti i farmaci per la dhd che sono riusciti a recuperare e costringono i quattro bambini più grandi a ingoiare quante più pillole possibile i bambini non vogliono farlo ma Sara e Brandon gli fanno pressione e loro si fidano della loro mamma e dello zio quindi assumano quelle medicine al momento Sara e Brandon sono concentrati sui quattro bambini più grandi onestamente non ho trovato informazioni su quale fosse il loro piano per i bambini più piccoli non so quante pillole abbiano ingerito i quattro figli maggiori ma chiaramente una quantità che i loro genitori ritengono letale fanno andare a letto e anche Sara va a dormire mentre Brandon torna a casa sua il giorno successivo la mattina del 24 maggio Sara va a controllare i suoi quattro figli maggiori si aspetta di trovarli tutti morti nei loro letti in realtà però non è così perché sono tutti vivi e vegeti stanno subendo però degli effetti collaterali hanno tutti la nausea e alcuni di loro hanno le allucinazioni Tristan e Blake si alzano dal letto ma stanno troppo male per andare a scuola così si mettono a giocare con la Nintendo Switch nel frattempo Sara è a dir poco furiosa le pillole non hanno funzionato e i suoi due figli più grandi stanno giocando ai videogiochi così Sara invia un messaggio a Brandon per avvisarlo che il loro piano è fallito e che i bambini sono ancora vivi anche Brandon si infuria corre a casa di Sara e insieme iniziano a cercare online quale sia il modo migliore per uccidere qualcuno decidono di organizzare un nuovo piano perché chiaramente l'avvelenamento non ha funzionato pensano allo strangolamento al soffocamento all'annegamento al termine delle ricerche la coppia si dirige nella camera da letto dei due ragazzi più grandi Blake e Tristan Sara prende il cordone della vestaglia che indossa e l'avvolge intorno al collo di Tristan inizia a strangolarlo il ragazzo prova a rispingerla urla e grida implorandola di smetterla ma Sara non si ferma e continua a stringere per quasi tre minuti Blake è presente in camera e vede tutta la scena Sara sta uccidendo suo fratello davanti ai suoi occhi comprensibilmente traumatizzato Blake si gira verso Brandon che crede sia suo zio e gli dice zio perché mamma sta cercando di uccidere Tristan fermala ma Brandon non fa nulla per fermarla anzi si avvicina a Blake e inizia a strangolarlo con le sue stesse mani non è nota la posizione degli altri bambini in quel momento spero solo che non fossero così vicini da sentire la scena dell'orrore che si stava svolgendo in quella camera da letto dopo che Sara e Brandon finiscono di strangolare i loro stessi figli li lasciano sul pavimento senza vita vogliono però assicurarsi che siano morti per davvero così gli mettono dei sacchi della spazzatura sulla testa ma non è ancora finita perché hanno altri quattro figli da uccidere Sara e Brandon vanno in bagno riempiono d'acqua la vasca prendono il loro terzo figlio e tentano di annegarlo il bambino ha solo 12 anni scalcia e urla e quando la sua testa riemerge dall'acqua urla alla mamma e allo zio perché state cercando di uccidermi fortunatamente questo tentativo di omicidio fallisce ma il motivo non è chiaro forse la coppia non è più convinta di portare a termine il piano Sara dopo questo tentativo fallito inizia a essere assalita dal panico in lei si fa strada alla certezza che non riuscirà a farla franca uccidendo tutti e sei i suoi figli ma ne ha già uccisi due così la donna decide di incolpare solo Brandon il suo fratellastro e il padre dei suoi figli Sara prende i quattro bambini rimasti e si barrica nella camera da letto anche il quarto figlio che ha 11 anni abbastanza grande per capire quello che sta succedendo i due bambini più piccoli invece non so quanto siano coscienti di ciò che sta accadendo il più grande ha tre anni mentre il più piccolo ha solo sette mesi in quella camera da letto c'è molta confusione e i due bambini più grandi sono terrorizzati senza contare che stanno ancora subendo gli effetti delle pillole per l'ADHD Sara nel frattempo inizia a scrivere diversi appunti sull'applicazione delle note del suo cellulare Brandon è il padre di tutti i bambini le pillole non hanno funzionato quindi mi ha obbligata a uccidere Tristan mentre lui ha ucciso Blake sono seduta qui con gli altri bambini che lui vuole uccidere ha anche cercato di annegare il terzo figlio ma non ci è riuscito sono così spaventata Sara sta cercando di sembrare la vittima della situazione afferma che Brandon l'ha costretta a seguire questo terribile piano omicida e che ora li ucciderà tutti in un'altra nota scrive se per qualche miracolo i miei figli vivranno ti prego prenditi cura di loro e assicurati che sappiano che li amo qualche minuto dopo la donna manda un messaggio a un amico scrivendo sta cercando di ucciderci Tristan e Blake sono già morti fortunatamente questo amico appena ricevuto questo messaggio contatta immediatamente la polizia sono le 7.45 sono passati 45 minuti da quando Sara ha scritto a Brandon che il loro piano di avvelenare i bambini non ha funzionato davanti alla casa di Sara si fermano ben 15 volanti della polizia e 4 ambulanze una scuola elementare dei dintorni viene chiusa per essere usata come base di comando e sono presenti anche degli elicotteri in volo di conseguenza la gente pensa che sia in corso una sparatoria di massa la polizia irrompe in casa e vede Brandon seduto con disinvoltura sul divano mentre sorseggia un energy drink trovano Sara e i 4 bambini barricati in una camera da letto e chiedono alla donna dove siano i figli maggiori Sara a quel punto mente affermando che tutti i figli maggiori sono a casa di un vicino mi chiedo perché decida di mentire non sei neanche presa la briga di sbarazzarsi dei corpi di Tristan e Blake pensa davvero che la polizia non li trovi e scopra la verità ma nell'attimo in cui Sara pronuncia questa menzogna uno degli altri bambini presenti nella stanza guarda l'ufficiale di polizia e gli fa un segno con il dito sul collo cercando di fargli capire che in realtà i due fratelli maggiori sono morti Sara se ne accorge e va di nuovo nel panico ed ha immediatamente un colpetto sul braccio del bambino dicendogli di non mimare quel gesto ma la polizia sta già correndo nella camera di Blake e di Tristan gli agenti trovano i due corpi apparentemente senza vita ancora con i sacchi della spazzatura in testa li tolgono e si rendono conto che i due ragazzi sono ancora vivi Blake e Tristan vengono portati d'urgenza in ospedale ma ormai è troppo tardi i due ragazzi muoiono a 12 minuti di distanza l'uno dall'altro questi sono due omicidi così insensati come hanno potuto fare una cosa del genere per coprire la loro relazione incestuosa e soprattutto mi domando come abbiano potuto credere che il loro piano potesse funzionare Sara e Brandon vengono arrestati e i quattro bambini sopravvissuti vengono portati immediatamente in ospedale i più piccoli fortunatamente non hanno riportato conseguenze fisiche mentre invece il dodicenne e l'undicenne non versano in buone condizioni entrambi stanno ancora sperimentando gli effetti collaterali dell'overdose di pillole vomitano e hanno le allucinazioni e vi ricordo che il bambino di 12 anni è quasi annegato ma grazie al cielo anche loro riescono a riprendersi completamente quando Sara viene portata alla stazione di polizia per l'interrogatorio consegna agli agenti una pagina di un tacquino intitolata organizzazione del funerale credo che questa donna sia incredibile ha ucciso sangue freddo uno dei suoi figli non ha dimostrato segni di pentimento e ora ha l'audacia di voler organizzare il loro funerale durante l'interrogatorio Sara prova a scaricare la colpa interamente su Brandon inoltre dopo tutto questo tempo Sara ammette per la prima volta in vita sua che il suo fratellastro è il padre di tutti i suoi figli la polizia non si aspettava di sicuro una rivelazione del genere Sara prosegue con la sua deposizione dichiarando che i servizi sociali stavano per scoprire il loro segreto ed è per questo motivo che Brandon l'aveva costretta ad aiutarlo a uccidere tutti i bambini Sara racconta tutto alla polizia senza risparmiare i dettagli dei farmaci per la DHD dell'omicidio di Tristan e Blake e del tentato omicidio del loro terzo figlio aggiunge che stavano in realtà progettando di uccidere anche gli altri bambini infine la donna afferma che stava meditando di togliersi la vita Sara continua a ripetere che preferirebbe vedere i suoi figli morti piuttosto che darli in affido agli assistenti sociali e a questo punto la polizia le dice beh questo è il tuo movente nel frattempo Brandon viene interrogato in un'altra stanza lui a differenza di Sara racconta la verità confessa che avevano pianificato e portato a termine gli omicidi insieme l'uomo afferma che il motivo per cui aveva ucciso i bambini è uno ed è molto semplice era arrabbiato per le accuse di cattiva condotta nei loro confronti dichiara che avrebbe voluto staccargli la testa o strangolarli a morte mi chiedo quindi quale fosse il vero movente dato che hanno fornito molteplici versioni volevano tenere segreta la loro relazione incestuosa volevano impedire che i bambini venissero presi in custodia dai servizi sociali oppure erano entrambi arrabbiati per le accuse di violenza intima le numerose prove digitali che la polizia recupera incastrano anche Sara dimostrando il coinvolgimento di entrambi che vengono quindi accusati di omicidio e tenuti in custodia in prigione mentre sono in attesa del processo l'8 agosto 2019 si tengono i funerali di Blake e Tristan più di due mesi dopo la loro tragica morte in questo giorno i familiari gli amici e l'intera comunità si riuniscono per dire loro addio i due ragazzi amavano le moto e le auto veloci e quando la comunità lo viene a sapere organizza una processione di oltre 300 moto e due Lamborghini per portare le loro bare presso l'ultima dimora sia Sara che Brandon avevano confessato e la polizia aveva raccolto numerose prove così la coppia si rende conto che è nel loro interesse stipulare un patteggiamento nel settembre del 2019 entrambi si dichiarano colpevoli di due capi di omicidio uno di tentato omicidio e sei capi di cospirazione per uccidere tutti i loro figli due mesi dopo nel novembre del 2019 Sara e Brandon vengono condannati all'ergastolo con un minimo di 35 anni non posso fare a meno di pensare ai poveri quattro bambini superstiti e a quanto siano rimasti traumatizzati i due più grandi di 11 e 12 anni hanno assistito a ciò che è accaduto quel giorno e sicuramente lo ricordano molto bene oltre a cercare di elaborare l'accaduto e non è facile accettare che i loro due fratelli maggiori siano stati assassinati dalla loro mamma ora hanno anche appreso che lo zio che conoscono da sempre è in realtà il loro padre biologico i due bambini più grandi ammettono di essere terrorizzati e preoccupati di diventare come i loro genitori perché temono di trasformarsi in assassini mostruosi entrambi continuano a dire di volere che la loro mamma e Brandon restino in prigione per i prossimi 300 anni spero vivamente che questi quattro bambini oggi stiano meglio e che presto possano riprendersi del tutto voglio dedicare l'ultima parte di questo video per ricordare le due piccole vittime del caso di oggi Blake Burras è stato descritto come un ragazzo gentile e premuroso che amava il football e le autosportive amava far sentire amate le persone che lo circondavano e aveva la capacità innata di far sorridere chiunque anche durante una brutta giornata si preoccupava per tutti e aveva un cuore così grande sua madre gli ha tolto la vita così presto aveva solo 14 anni Tristan Burras è stato descritto come un ragazzino dolce e amorevole un po' dispettoso certo ma dotato di gran coraggio amava esprimersi attraverso i vestiti e i capelli colorati suo padre gli ha tolto la vita così presto aveva solo 13 anni e questo ci porta alla fine di questo video alla conclusione di questo caso che io trovo devastante è terribile e mi chiedo realmente come questa donna e quest'altro e questo uomo pensassero che a ucciderli ammazzarli tutti fosse un buon modo per passarla liscia per farla franca perché perché gli servizi sociali già avevano messo la lente di ingrandimento su di loro li stavano già tenendo d'occhio e lei di certo ha fatto la cosa giusta chiamandoli però ha anche attirato molto la loro attenzione è così triste perché queste situazioni spesso culminano in fatti così tragici e quando ormai si è passata la linea quando ormai si è commesso l'omicidio molto spesso queste persone i protagonisti di questi casi si rendono conto che è tutto inutile che li avrebbero scoperti comunque e quindi forse sarebbe stato meglio essere onesta però penso che Sara si vergognasse davvero tanto non credo che lui si vergognasse Brandon si vergognasse così tanto lui non credo ma Sara secondo me si tantissimo e quindi è arrivata a pensare di fare un gesto così estremo la trovo una cosa davvero assurda e non non vi so neanche dire se hanno mostrato pentimento non ve lo so dire perché non ho trovato fonti a riguardo io spero davvero che questi quattro bambini superstiti riescano a stare meglio riescano a mettersi alle spalle questa brutta brutta storia e riescano a vivere al meglio la loro vita perché se lo meritano detto questo io ho finito di parlare in questo video quindi fatemi sapere quello che volete qui sotto nei commenti conoscevate questo caso cosa ne pensate di questo caso insomma fatemi sapere le vostre sensazioni le vostre emozioni cosa vi ha suscitato il racconto di questo caso io nel frattempo vi mando un bacione noi ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi con di voi e fate ciò che vi rende felici basta che non facciate nulla di criminale ciao a tutti